Mi porto a casa tante cose nuove imparate. Marnaldo Bologni e Giuseppe Donofrio mi hanno aiutato molto e per me è stato comunque un onore anche averli come tecnici per una settimana in cui ho imparato molte cose. E l'amicizia che è una cosa molto molto bella perché gli amici fedeli ti potrebbero aiutare a un momento in alto. E' stata una settimana appena di... Piena di tante cose. Grazie a tutti i ragazzi. Noi cresceremo dei ragazzi in gamba. Un po' di più il contatto in confronto a quello che facevi ieri all'inizio. Non spingo, riprendo. Tutte le cose che mi hanno insegnato mental coach, sofrologia e preparazione atleta che mi hanno aiutato tanto, tanto, tanto. faremo dei lavori che si chiamano auxotonici, con gli elastici. Prendete il tempo per rilasare ogni muscolo. Dobbiamo cercare di rendere le cose sempre più scientifiche anche nel nostro sport. L'ansia. L'ansia sono le tue ali. Ho imparato bene a sellarlo, ho imparato bene a pulirlo. Allora, fai conto che noi facciamo formazione a tanti selloi. Ho imparato bene a fare il box. Ho trattato anche bene all'interno di casa sua. Cose che prima non facevo tanto bene. Poi oggi faccio la mia prima 30, quindi insomma faccio... è un buon passo in avanti. È stato bello. Impegnativo, però bello. Brava. Anche io ti do la mano Eva, brava. Adesso vorrei qui Laura, Anita, Lorenzo e Matilde. Anita, perché hai vinto la quinta edizione di Campus Masterclass. Campus Masterclass, edizione 5, 2022. Finisce qui. Grazie a tutti e buon rientro a casa. Grazie a tutti.